E continuiamo a parlare di sicurezza, massima severità per contrastare la violenza negli stadi dopo gli ultimi scontri tra gli ultra, a dirlo è il ministro dell'interno, Piantedosi. Sentiamo. Ieri un fenomeno grave, cosa intendete fare? Beh, queste sono iniziative che c'entrano in qualche modo, perché la violenza si contrasta non solo con le sanzioni che irrogheremo e con le quali continueremo a presidiare questo fenomeno, ma con la diffusione della cultura e dello sport. E questa è un'iniziativa importante. Il DASPO basterà? Vediamo. Intanto ripeto, anche queste iniziative hanno un'importanza di lungo periodo. Grazie. Oggi è una giornata importante qua, che cosa significa? Molto bella, perché siamo qui con tutti i livelli di governo territoriale, con un religioso di strada, diciamo così. Quindi viene a sintesi la visibilità di quello che è un impegno corale rispetto ai temi della difficoltà a vivere in certi contesti e quindi utilizzare lo sport e tutto quello che gli sta attorno come fattore di promozione della coesione. e del recupero del disagio. Grazie.